ben ritrovati a questo nuovo video nel quale come vedete dal titolo nella mia scaletta parliamo di file system per linux e si tratta di un tema suggerito da qualcuno di voi che un po di tempo fa mi ha chiesto appunto se vi fosse possibile creare un video su questo tema perché questa persona insomma si è accorta che rispetto a windows e mac osx la scelta di file system su linux è tutt'altra cosa insomma e infatti con windows e mac osx praticamente la scelta è obbligata ovvero non c'è scelta perché abbiamo un solo file system di riferimento lo stato attuale abbiamo ntfs per windows e hfs o hfs più cose poi per mac osx insomma comunque questi due sistemi operativi proprietari indirizzano i loro clienti o meglio nelle loro installazioni usano uno file system l'altro l'altro ed è definita lì non c'è scelta con linux invece il discorso è ben diverso c'è molta scelta ci sono parecchi file system che linux riconosce nativamente basta che i moduli che gestiscono il tal file system siano compilati nel kernel e conosciuti dal proprio kernel e si possono usare tranquillamente diversi file system o meglio si possono per così dire per essere molto pratici si possono formattare i nostri dischi con diversi file system fra i quali scegliere ecco e proprio è la scelta è il problema diciamo in windows e mac osx non essendoci scelta non c'è neanche il problema in linux uno si potrebbe porre il problema dice ma qual è fra tutti questi file system il migliore per me in fin dei conti come faccio a saperlo con tutte queste sigle questi nomi strani questi acronimi di file system io non me ne intendo come faccio a sapere cosa scegliere qual è il migliore per me cosa usare beh cominciamo col toglierci questo pensiero perché in realtà per nostra fortuna praticamente tutte le distribuzioni linux quindi non solo ubuntu ma anche le altre quando le installiamo quindi eseguiamo il l'assistente di installazione o wizard di installazione che dir si voglia impostano già loro il file system più più adatto al nostro uso generico casalingo del pc quindi non dobbiamo preoccuparci non vediamo neanche in realtà quale file system impostano queste distribuzioni perché se usiamo proprio l'installazione pulita pulita standard di installare linux come unico sistema operativo sul nostro pc viene si viene generalmente avvisati che il disco del pc verrà formattato completamente linux prenderà tutto il posto necessario si va avanti 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 la cosa viene installata ci si ritrova con un disco formattato con un certo file system ecco allo stato attuale se non tutte questo non lo so perché non ho la prova che tutte le distribuzioni usino il medesimo file system per difetto ma allo stato attuale sicuramente la maggioranza delle distribuzioni usa imposta il file system chiamato e ext4 o ext4 sicuramente al giorno d'oggi lo stato attuale il file system più diffuso più noto e più usato è ext4 anche ubuntu tuttora e da diverse versioni di ubuntu imposta ext4 per difetto quando si installa ubuntu appunto quindi diciamo che il problema di anche per un utente nuovo di linux che quello affronta per la prima volta il problema in realtà di chiedersi fra la moltitudine di file system disponibili per linux quale scegliere qual è il migliore paura di sbagliare non esiste in realtà perché usando le distribuzioni ci pensano loro a impostare tutto per noi per il meglio ecco però ciò non toglie che se una persona un minimo curiosa arriva a chiedersi ok il mio disco vedo che è stato formattato in ext4 va bene perfetto però so che in linux ho visto navigando in rete o parlando con altri utilizzatori so che ci sono altre sigle di file system quindi altri file system e ecco che in questo video così non da esperto per carità ma raccogliendo un po di informazioni in rete ne ne passo alcune delle sigle più note di questi file system con spiegando alcune caratteristiche giusto per riassumere approfittare di questo video per riassumere fare un piccolo specchietto delle caratteristiche principali di ciascuno di questi file system che appunto ripeto sono fra i più noti questi fra i più popolari ce ne sono altri diversi altri parecchi altri oltre a questi che presento qua in questo video ecco allora come ho detto ext4 è il più diffuso al tua mente il più popolare il più usato però ci sono appunto altri file system che per alcuni compiti sono anche più efficienti di ext4 ovvero sono migliori per alcuni compiti specifici come ho detto noi usiamo il nostro pc per dei compiti come dire a livello casalingo generico facciamo un po di multimedia navighiamo spesso scriviamo mail scriviamo documenti con libre office eccetera eccetera e ext4 va benissimo per tutti questi compiti tra virgolette normale non specializzati focalizzati su un certo tipo di compito come vediamo fra un attimo ci sono anche dei file system che sono più adatti per certi compiti specialistici che non ext4 o altri file system ecco i primi due che presento qui sono un po come dire storia ecco nel senso che lo vedete dalla sigla ext2 ed ext3 danno l'idea con quel numero progressivo che siano i predecessori di ext4 in effetti è così ext2 il più vecchio in ordine cronologico poi è arrivato ext3 che è un'evoluzione di ext2 e poi è arrivato ext4 che è un'ulteriore evoluzione di dei due precedenti li segnalo proprio un po per dare questo background storico a x4 più che altro perché appunto essendo x4 quello utilizzato più spesso x2 x3 lentamente nel tempo sono usati sempre meno almeno al nostro livello di utente generico soprattutto x2 è molto solido ovviamente perché essendo il più anziano è anche il più sviluppato il più come dire il più corretto il più verificato il più collaudato però essendo il più anziano ha per esempio il problema che non ha integrato al sistema di cosiddetto di journaling che detto in due parole è un sistema che protegge i nostri dischi i nostri dati i nostri file da un'eventuale scrittura andata male o interrotta ecco mettiamo che il nostro pc da tavolo sta lavorando e sta scrivendo i suoi file sul disco noi abbiamo detto di salvare dei file ma in quel momento c'è un'interruzione di corrente una disgraziata interruzione di corrente che interrompe di colpo il lavoro del pc ecco con un file system che ha un sistema di journaling c'è questa specie come dire di di buffer di memorizzazione intermedia di alcuni dati che alla ripartenza del pc permettono al file system stesso di riaggiustarsi di riprendere il lavoro di rifarlo dove è andato male ecco questo detto molto brutalmente perché poi descrivendo le cose tecnicamente in modo rigoroso ci vorrebbe forse anche più di un video però questo journaling giusto per far capire il concetto insomma quello che serve in pratica questo journaling serve proprio a questo quindi anche dovesse andare male una scrittura interrompersi il pc la corrente qualcosa che va male grazie al journaling il file system riesce a tornare in uno stato coerente con quello che gli abbiamo chiesto di fare ecco x2 non ha questo sistema quindi è molto efficiente cioè veloce quindi perché il journaling qualcosa rallenta ovviamente perché è uno strato di lavoro in più per il file system x2 non avendolo ovviamente è molto efficace veloce però c'è da tenere presente che in caso di problemi tipo quelli che ho descritto non c'è la garanzia che poi alla ripartenza del pc ci troviamo questi file in uno stato ancora leggibile e non rovinati eccetera eccetera ecco non è per carità che succede tutti i giorni una cosa del genere x2 per anni è stato il file system di riferimento e quindi non è che succeda poi così spesso un problema di questo tipo però ecco diciamo che dimostra la sua età x2 e non ha questa funzionalità interessante e utile per preservare la coerenza dei nostri file quindi successivamente c'è stata l'evoluzione in x3 x3 è praticamente quasi identico a x2 con l'aggiunta però ecco è arrivato il sistema di journaling quindi che ci preserva la coerenza dei file nel file system sul disco anche a fronte di problemi del pc o del server che dir si voglia perché noi parliamo spesso del nostro livello su questo canale del nostro pc casalingo ma naturalmente i file system non sono solo per i nostri pc ma e soprattutto anche per i server anche professionali quindi con molto con molto lavoro di file di lettura scrittura eccetera eccetera ecco x3 quindi è stata l'evoluzione di x2 con l'aggiunta del journaling e adesso finalmente arriviamo ai giorni nostri dove c'è x4 che è l'ulteriore evoluzione di x3 migliorato nelle performance e tutto quanto e come ho già avuto modo di dire prima è quello attualmente più popolare fra le distribuzioni Linux è una buona scelta anche per chi usa dischi ssd cioè i recenti moderni dischi non più meccanici ecco sono gestiti bene anche da questo file system sono gestiti in modo adeguato e diciamo che è un file system possiamo anche definirlo polivalente questo x4 perché ha buone prestazioni appunto per i dischi meccanici per i dischi ssd con file grossi e piccoli se la cava bene ecco e quindi appunto è un polivalente anche per quello che è la scelta più diffusa tra le varie distribuzioni Linux poi c'è anche riser fs altra sigla nota tra i file system che è interessante come appunto come file system come alternativa alla famiglia ext diciamo così ma purtroppo il suo sviluppo è precario nel senso che è molto lento e anzi quasi non si capisce se sta andando avanti o no lo sviluppo di questo file system purtroppo perché si tratta di un file system che ha la spiccata caratteristiche di essere molto efficiente con i file piccoli e quindi può essere un'ottima scelta per i server che gestiscono database quindi con e sistemi di email quindi con messaggi mail che non sono gigabyte o terabyte i messaggi mail solitamente sono abbastanza piccoli ecco e quindi può essere una buona scelta come file system per questo tipo di macchina ecco diciamo che per quanto riguarda invece i nostri pc domestici per uso generico probabilmente è una scelta meno adatta di ex 4 perché sui nostri pc trattiamo file un po di tutte le dimensioni non solo file piccoli possiamo avere il film di turno archiviato sul nostro disco che è un file grosso e quindi riser fs per i file grossi non è efficace non è così efficace come altri file system poi abbiamo btrfs che ecco questo è interessante perché molto probabilmente è il futuro ovvero non è che non esiste adesso esiste già però è ancora in sviluppo e in consolidamento sia in prestazioni che in solidità perché è nuovo praticamente giovane molto giovane e però si parla già di questo file system come candidato futuro probabilmente come sostituto futuro di ex quattro come standard nelle nostre distribuzioni ecco btrfs come detto è tuttora in sviluppo e quindi è molto giovane molto recente e infatti include delle caratteristiche molto interessanti per un file system che non hanno altri file system perché proprio questo è molto recente fra le numerose caratteristiche interessanti ne ho selezionate alcune solo da da citare qui per esempio la defraimentazione in esercizio ovvero noi continuiamo a lavorare con il nostro con il nostro pc con il nostro server e lui si auto defraimenta qualora ci fosse bisogno e naturalmente questo è un punto l'ho messo ma voi sapete o saprete quasi sicuramente avrete già sentito anche su in altri miei video che uno dei vantaggi o delle caratteristiche dei file system linux rispetto per esempio a quello di windows ntfs è che non si defraimentano o in misura molto 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 minore che non il file system di windows quindi in realtà i tool di defraimentazione sono o inesistenti o poco noti in ambito linux perché non ce n'è mai bisogno cioè io in anni di utilizzo non ho mai dovuto defraimentare il mio disco del pc ex in x4 perché non ce n'è bisogno non si defraimenta i file system di linux sono strutturati e sviluppati in modo da evitare il più possibile la defraimentazione al contrario del file system di windows ecco btrfs comunque include un autodefraimentazione mentre è in esercizio quindi qualora ce ne fosse bisogno e malgrado che è molto rara la defraimentazione in linux diciamo che sui server dove ci sono molti movimenti di file probabilmente ogni tanto la defraimentazione appare qua e la e btrfs include prevede una defraimentazione così al volo volante così come prevede anche degli snapshot al volo ovvero il file system lui stesso auto crea degli snapshot ovvero delle situazioni ad un certa data e ora del file system prima di andare avanti a modificarlo al file system di snapshot noi parliamo per esempio abbiamo già parlato in passato quando parliamo di virtual machine di macchine virtuali per esempio noi creiamo una macchina virtuale e a un certo punto salviamo uno snapshot cioè la situazione della macchina virtuale ad un certo punto prima di andare avanti a modificarla così ci fossero dei problemi possiamo sempre tornare a quello snapshot e tornare ad una macchina virtuale in uno stato operativo ecco lo stesso principio vale per le snapshot di questo file system che lui integrato proprio già nel file system ha la possibilità di creare degli snapshot al volo ovvero delle versioni di se stesso praticamente quindi noi lavoriamo con il nostro pc con il nostro server btrfs ci pensa lui a scadenze immagino che si possono impostare quando si fanno le impostazioni di questo file system immagino io si imposterà che ne so ogni ora ogni giorno oltre la settimana non lo so di crearsi degli snapshot quindi delle versioni di se stesso ecco che se nel tempo magari un file si rovina un settore del disco si rovina non so qualsiasi cosa che può succedere o se corrotto un file ecco per qualsiasi motivo lo abbiamo rovinato abbiamo a disposizione degli snapshot o delle versioni antecedenti alle quali tornare e questo sistema appunto non richiede più dei software specializzati aggiuntivi da installare sul nostro pc perché già integrato in sito in questo file system così come la compressione dei dati in modo trasparente ovvero questo file system prevede anche per risparmiare posto disco spazio disco se fosse necessario di comprimere i dati quando li scrive in modo trasparente vuol dire che noi non ce ne accorgiamo noi lavoriamo con il nostro pc o server i nostre cartelle navighiamo prendiamo i nostri file li apriamo li salviamo li chiudiamo e ci pensa btrfs a comprimerli quando li scrive decomprimerli quando ce li presenta noi non ci accorgiamo di niente queste sono solo due o tre caratteristiche fra le molte che questo file system porta porta offre ai suoi utilizzatori offrirà a breve in modo stabile ai suoi utilizzatori ecco da queste caratteristiche si deduce chiaramente che questo file system è stato studiato almeno inizialmente per un ambito aziendale ovvero per i server perché gli snapshot deframentazione compressione sono tutte cose previste per per grandi volumi per grandi movimenti di file non proprio per il nostro pc casalingo però poi queste caratteristiche comunque sono allettanti e le varie distribuzioni linux ubuntu e altre si sono avvicinate ben presto interessate a questo file system che ora appunto è il candidato più accreditato a sostituire un prossimo futuro x4 come standard anche sui nostri pc domestici già ora è non è che non si possa usare che ancora in fase di sviluppo non rilasciato già ora volendo un disco esterno lo potete connettere e formattare con questo file system a quanto leggo in rete però è ancora diciamo in uno stato come dire x4 è ormai consolidato perché ha un tot di anni di sviluppo e di correzioni e di adeguamenti e di ottimizzazioni btrfs ancora un po giovane ecco quindi leggo in rete di utilizzatori che l'hanno usato proprio anche sul disco principale del loro pc non hanno mai avuto problemi altri invece che hanno avuto problemi di lentezza per esempio che risulta questo file system nettamente più lento di x4 altri che hanno avuto problemi anche di corruzione di file ma forse un po più indietro nel tempo ora non succede più almeno quello eccetera eccetera quindi non è ancora ottimizzato probabilmente ancora pronto per sostituire x4 però non ci manca molto è se si parla già di possibile candidato vuol dire che incomincia a consolidarsi questo nuovo file system vedremo vedremo se prima o poi magari anche ubuntu altre distribuzioni inizieranno a formattare il disco nelle loro procedure di installazione con questo file system e non più con s4 magari tra qualche anno non lo so poi ci sono ancora un paio di file system che vale la pena citare perché sono discretamente noti ecco fra tutti quelli che esistono ripeto ce ne sono molti di più di così ma questi sono fra i più noti c'è xfs ancora ecco abbiamo detto prima che riser fs è molto efficace con i file piccoli ecco specularmente xfs invece è ottimo molto efficace per i file grandi ed è quindi di conseguenza la scelta giusta per i server che gestiscono contenuti multimediali quindi audio video che sono solitamente file medio grossi più grossi che media addirittura ecco e quindi ecco se stiamo gestendo vogliamo gestire un sito che gestisce contenuti multimediali per dire ecco giusto per fare un esempio xfs è sicuramente la scelta migliore che non x4 o altri tipi di file system e diciamo speciali si è specializzato per essere ottimizzato a gestire file grandi più che file piccoli come riser fs ecco quindi è senz'altro una scelta indicata per questo ambito poi l'ultimo file system che voglio citare qui è ilungo fs o jfs che ha diciamo un comportamento misto un po' polivalente sia coi file grossi che coi file piccoli si comporta bene ecco e in più richiede anche poco sforzo alla cpu per fare quindi al processore del pc o del server per fare il suo lavoro quindi come dire un file system risparmioso diciamo così un buon polivalente con tutti i tipi di file di grandezze di file sia piccoli che grossi e anche poco che richiede poco poco esigente dal punto di vista di calcolo di cicli di cpu di processore quindi è probabilmente il miglior compromesso una via di mezzo fra i cosiddetti specialisti riser fs per i file piccoli xfs per i file grossi questo jfs è un miglior compromesso fra i due ecco come ho detto non è che per carità non è che io sono uno specialista dei file system quando installo lascio lo standard quindi anche uso tranquillamente il mio x4 e questo video l'ho fatto ben volentieri perché mi è stato richiesto e anche perché imparo sempre qualcosa anch'io andando in rete a cercare queste informazioni ecco più di così però io non è che sia un esperto un tecnico di file system che sono anche temi complicati però ecco breve carrellata giusto per evidenziare dei protagonisti ognuno nel loro ambito per dire questi file system abbiamo visti alcuni che sono specializzati in un certo tipo di file altri in altri tipi di file e anche dei buoni polivalenti che vanno bene un po' per tutte per tutti i tipi di file ecco quindi vedete che in linux appunto il discorso è nettamente diverso che non in windows e mac os x qui abbiamo un'ampia scelta di file system qui ne ho presentati solo un piccolo insieme ecco nella descrizione di questo video vi lascio anche questi riferimenti che come sempre vi lascio come come sempre nei miei video dei riferimenti per andare ad approfondire questo tema se vi interessa quindi due di questi link li ho aperti qui dietro lo sfondo di questo video uno è l'immancabile anzi tutte e due di wikipedia uno che spiega un po' la storia cosa sono i file system questo e già solo passando questa pagina vedete che l'elenco dei file system esistenti vedete già qui come è impressionante quanto sia lungo già solo qui e qui sono inclusi anche quello di windows e quelli dei mac eccoli qua ma sono solo tre voci su tutte queste voci che tutti gli altri sono o per sistemi linux o alcuni anche per amica così vecchi sistemi operativi però la maggior parte delle voci sono compatibili con sistemi linux l'altro link indirizzo è più dettagliato e mostra tutta una sequela di file system mentre qui sono ancora di più ai file system vedete quanti sono e nelle piattaforme vedete che la maggior parte c'è scritto linux qui sulla colonna di destra maggior parte sono compatibili con linux perché la maggior parte della scelta dei file system è appunto per sistemi linux e qui questa qui una pagina molto dettagliata con tutte le caratteristiche anche tecniche che vanno ben anche al di là delle nostre conoscenze o necessità di conoscere però interessante da avere come pagina vedete ci sono anche i limiti di ogni file system cosa può fare cosa non può fare il singolo file system se ha una certa caratteristica sì o no li vedete qui interessanti queste tabelle per chi è interessato a questo argomento ovviamente vedete molto molto dettagliato molto lunga la pagina con tutte le varie caratteristiche di tutti i file system ecco con questo vi lascio concludo questo video questa breve carrellata anche non molto approfondita sul file system ma interessante per le caratteristiche per capire anche le differenze che per vari sistemi operativi e quindi con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao ciao